Avola, videosorveglianza cittadina, 100.000 euro per l'installazione delle telecamere. Il Comune di Avola ha ottenuto un finanziamento regionale da circa 100.000 euro per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza cittadina. L'amministrazione comunale ha acquistato telecamere di alta qualità da piazzare in diverse zone della città con il rinnovamento target nelle entrate e uscite per intervenire in tempo reale e supportare le forze dell'ordine nelle indagini contro ogni reato e crimine. Un altro importante servizio per la cittadinanza, le parole del Sindaco di Avola Luca Cannata, grazie al contributo del POFES di Sicilia che ci permette di coprire tutti gli accessi della città dal centro storico a lungomare. L'impianto di videosorveglianza sarà gestito dagli uffici comunali e dalle forze di polizia locale e visionabile in tempo reale dall'autorità giudiziaria e dalle altre forze dell'ordine utile alla sicurezza anticrimine. Grazie. 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 Grazie.